Come fai a startene qui tutta sola? Perché non viene a startene in paese? Non sono socia brusca. Non è un buon momento per i cani, lo dico per te, sei la mia unica parente, poi so quello che ti è successo, quello che stai passando con il tuo marito in coma. Dalle parole da uno che si fa vedere una o due volte l'anno. Io potrei dire lo stesso di te, o no? Senti, non sei venuto qua per parlarmi di qualcosa? Sì, non si giro intorno. Io ricordo che tuo marito voleva vendere il bosco. Era un'idea del cazzo, è troppo vicino alla proprietà. Potresti ridefinire i confini, magari ti tieni cento metri, duecento metri di bosco, il resto... Scusa, ma a te che cosa te ne frega? Io sono qui soltanto per parlare. Ah, quindi? Hai altri argomenti? Sì. Io potrei entrare in un affare, che sarebbe un buon affare anche per te. Sì, del caso che io non abbia voglia di fare affari. Fammi dire. La segheria di Morello è in difficoltà e ha bisogno di alberi. È disposto a cedere quote? Sai, ci lavora mezzo paese, sarebbe una svolta per la comunità. Senza contare che sarebbe una cosa bellissima perché potrebbero rispettare il ciclo, sai, di abbattimento e riempianto e poi limiterebbe moltissimo la caccia. E da quando è qua il miglior amico dei cacciatori si interessa degli animali? Ma dai, su. Da quando ho sentito l'odore di soldi? Tanti, eh? Ah, ecco. Ho un cancro. Voglio lasciare un futuro a mia moglie e a mio figlio. Vattene. Vattene. Laura. No, vattene ora. Alla fine. Grazie a tutti.